Buongiorno, vi rubo veramente solo pochi secondi a conclusione di questi tre giorni. Una tre giorni che quando è stata pensata, è stata organizzata per essere fatta qui nella mia, nella nostra città, doveva essere una cosa dal mio punto di vista molto semplice. Si parlava semplicemente di famiglia, io l'ho inserita nel programma di mandato, la tutela della famiglia, come prevista nell'articolo 29 della nostra Costituzione, ma una cosa così semplice, mi verrebbe quasi da dire banale, ma non è banale certo la famiglia, è diventata invece, l'abbiamo visto tutti, oggetto di grandi polemiche. Siamo arrivati alla conclusione, abbiamo dimostrato che nella nostra città si può parlare, guardate incredibilmente di famiglia, di papà, di mamma, di bambini. Fuori di qui qualcuno ha parlato usando i propri toni di altro, perché questa è una città, io l'ho sempre detto, che è una città accogliente in cui ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, il pensiero, però lo ribadisco ancora, nessuno ha il diritto di impedire ad alcuno di esprimere i propri principi, i propri valori, anche e soprattutto se questi si riferiscono ad un'istituzione fondamentale come la famiglia. E forse ci si è dimenticati o forse le polemiche di questi giorni hanno mascherato quelli che in realtà sono veramente, e se ne è dibattuto qui, i problemi delle nostre famiglie, non ultimi, i problemi economici, i problemi di arrivare a fine mese, quelle che le nostre famiglie aspettano a supporto, a tutela delle problematiche che ogni giorno devono affrontare. Mi fermo qui, siamo arrivati alla fine e vi dico anche, siccome non sono ipocrita, io non ci sarò dopo alla marcia, per un motivo molto semplice, perché prima che essere sindaco di questa città sono papà e oggi mio piccolo Jacopo compie un anno, e tra l'altro, ma questa è cosa nota, a breve, tra una ventina di giorni Jacopo avrà una sorellina. E quindi ho pensato che tutte le famiglie, perdonatemi questo piccolo atto di egoismo, tutte le famiglie sono fondamentali, sono importanti, ma la mia sinceramente ha la priorità assoluta su tutte. Buona giornata ancora e spero che sia stata una buona presenza nella nostra città.